Taglio del nastro a Montale per il servizio di busnavetta destinato a persone che hanno difficoltà negli spostamenti è realizzato in collaborazione tra Misericordia di Montale e Supermercato Votino con i primi anziani a fare la spesa accolti anche con un rinfresco inaugurale. Questo servizio si svolge in collaborazione con il Supermercato Votino grazie all'utilizzo dei volontari e dei mezzi della Misericordia di Montale che per tre giorni alla settimana, i pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì vanno nella periferia di Montale, soprattutto su in montagna a prelevare quelle persone della terza età soprattutto con difficoltà motorie per poterle appunto portare al supermercato, perlomeno per rendere accessibile a queste persone uno di quei gesti quotidiani che magari sono venuti meno a causa delle loro difficoltà della deambulazione mezzi della Misericordia grazie ai volontari. Il busnavetta parte lunedì, mercoledì e venerdì alle 15.30 da piazza di Vittoria a Tobiana alle 15.40 da piazza San Francesco a Fognano e alle 16 da piazza Marconi a stazione di Montale Per chi ha difficoltà a raggiungere le fermate è possibile anche prenotare la navetta direttamente al proprio domicilio chiamando il numero 366 58 41 272 Perché avete scelto di promuovere questa iniziativa? È semplice, è un motivo per dare possibilità a delle persone che hanno esigenze motorie che non si possono muovere, che sono inchiusi in casa in questo momento hanno l'opportunità di vedere qui in paese, in centro di ritrovarsi con degli amici, fare la spesa senza nessun sacrificio perché c'è la Misericordia che le accompagna qui a fare la spesa e le riaccompagna a casa penso sia uno dei motivi per dare atto delle persone che hanno bisogno e problemi di muoversi e si inseriscono nella vita normale Da sottolineare che il servizio che offrite è completamente gratuito? Senz'altro il servizio è tutto gratuito per merito della Misericordia che c'è da una mano noi collaboriamo in altri modi però queste persone hanno bisogno di non spendere niente perché farli spendere? Quando abbiamo un'organizzazione che è la Misericordia del Servizio del Popolo noi, dicevo prima, noi collaboriamo e diamo la possibilità ai clienti a questi signori di fare la spesa senza nessun sacrificio e tornare a casa tranquilli dopo aver trovato degli amici salutandosi e ritrovarsi in altre occasioni